e riviusi a sml ciao ragazzi come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare chocolate, chocolate, chocolate andiamo ad aprirle insieme cosa dite? chocolate 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 Chocolata Cioccolato 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 Bene ragazzi Andiamo a gustarci Questi quadretti di cioccolato Buonissimi Pagletti Pagletti Mezga Pagletti Cuccolato Sì, 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 sì. Sì cioccolato 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 si Sì. Choccolato Alla prossima Sì. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. grazie a tutti per aver visto questo video vi do l'appuntamento alla prossima ciao